10 milioni di euro per i familiari delle vittime dell'hotel Rigopiano, lo aveva annunciato il ministro dell'interno Matteo Salvini il 17 gennaio in occasione del secondo anniversario del disastro della Valanga. E come promesso, lunedì mattina a Palazzo Chigi, i familiari delle 29 vittime dei feriti nella tragedia dell'hotel Rigopiano definiranno il cronoprogramma della liquidazione. Marco, dopo tante difficoltà sembra che sul fronte giudiziario la strada si sia, come dire, imbarcata verso il senso giusto. Sì, ormai siamo prossimi alle udienze, ci arriviamo con uno spirito molto combattivo e ci arriviamo bene, i nostri legali stanno lavorando tanto e da tanto tempo, quindi non vediamo l'ora dopo due anni e mezzo che si parta con questa situazione. Voi da sempre, da subito non avete mai chiesto vendetta? No, noi ci aspettiamo giustizia perché è giusto che sia così, perché lo dobbiamo alle persone che ora non ci sono più e non retrocederemo mai di un passo su questo. A Roma, oltre ai familiari delle vittime, saranno presenti anche i sindaci delle città dove erano residenti. I 10 milioni di euro, lo ricordiamo, sono stati stanziati dal Ministero dell'Interno per aiutare chi ha perso tutto in quelle drammatiche ore. Si deve andare avanti, la vita prosegue senza però mai dimenticare. Sì, dopo due anni è giusto andare avanti e tra poco inizieranno i processi, quindi bisogna comunque avere la forza di continuare e di poter combattere appunto questa lunga battaglia che ci aspetta. Ecco, voi con l'associazione proprio Mai Più avete sempre ribadito questo, chiedere giustizia. Sì, è una delle tante cose, se non l'unica, che noi vogliamo, giustizia per quello che è successo perché io penso che nel 2017 non si possa morire così e quindi adesso noi vogliamo comunque giustizia e verità su quello che è successo quel 18 gennaio.